Nuovo qui in diretta a Radio TVIS FM 99.8, mi raccomando partecipate numerosi in questo nuovo spazio stretta di mano e vediamo subito i numeri 0665796348 per le telefonate e per gli sms 3424151406 siamo in compagnia di Gadi Funaro e il nostro ospite Mattia Di Tommaso, candidato sindaco di Roma alle primarie del centro-sinistra Ok, allora, nel frattempo stanno arrivando idee per il tuo soprannome Fabio conferma Trota Salmonata, allora è piaciuto Eh, non male, ti piace a te? No, assolutamente no, per contro i soprannomi Penso che per chi ci sta seguendo dalla TV al canale 635 riesca a vedere la tua espressione La tua espressione non rassicurante Perché non vedo da qua, quindi non vedo il nome della persona che scrive Perfetto, allora, ragazzi abbiamo un'altra, io andrei con un'altra domanda di Facebook perché qui sono tanti Allora, ragazzi, vediamo un attimino Ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante Allora, andiamo con Giulia E uno dei problemi più grandi per noi giovani che vogliamo renderci indipendenti dalla nostra famiglia è quello della casa Quali sono le tue proposte? E su questa già... L'abbiamo già detto Però ringraziamo Giulia perché comunque sta partecipando Sì, grazie Un piccolo scenno tanto per dire Housing sociale e appartamenti a 400 euro per le giovani coppie e le case sfitte degli enti, quelle abbandonate E una nuova edilizia popolare dove è possibile Quindi, altra domanda di Valeria Recentemente c'è stata la giornata dedicata alla violenza sulle donne Volevo sapere se il vostro ospite, candidato a sindaco di Roma, Mattia Di Tommaso affronterà questo problema e se lo riterrà Perdonami, mi sono perso Grazie E se lo riterrà come una tra le priorità a cui dedicarsi, grazie È una priorità assoluta È evidente che io, anche per la storia che rappresento e per la mia vita Sono sempre messo al centro dell'attenzione e della mia vita Il rispetto per le donne, il rispetto anche per la dignità umana Bisogna essere coerenti anche con l'elettrice Nel senso che io mi cambio a sindaco di Roma E quello che può e deve fare un'amministrazione comunale è mettere le donne sullo stesso livello degli uomini Io l'ho già detto Quindi anche sul piano della sicurezza, Mattia? Sul piano della sicurezza, ma anche sul piano della partecipazione alla vita pubblica E quindi io già l'ho detto La metà delle donne saranno in giunta Io ho un comitato elettorale, lo dico Composto dalla stragrande maggioranza di donne La coordinatrice della campagna elettorale Che è Federica Ciuffarella Che voglio ringraziare per lo straordinario lavoro volontario che fa È una donna Perché insieme si lavora meglio E io l'ho detto Bisogna creare anche una politica Perché vedi, una scelta dell'amministrazione Ha un impatto diverso sull'uomo e sulla donna Quindi bisogna fare anche delle scelte che sappiano ponderare Per quanto riguarda la sicurezza Alle mano ci vinse le elezioni E forse ce le perderà le successive Perché è evidente che alla gente poi Non si può incudere quella paura e quel terrore di vivere in una grande città Beh non solo Soprattutto sul tema dei nomadi Sì però sul problema Prima ci arrivo Però il problema delle donne per esempio È vero che la città Ha dei punti bugli Ha dei punti abbandonati Che vanno sicuramente eliminati Ma basterebbe veramente dare un po' di luce Ma anche di vitalità a quei quartieri Però ricordiamo sempre di non farci poi colpire da questa paura Perché Roma poi a livello delle grandi città È una delle città meno pericolose Da un punto di vista di crimini Questo va sempre detto Perché sennò sembra che stiamo descrivendo il Bronx Sulle donne Io in realtà sono sempre un po' contro le giornate Perché sembra che quel giorno Poi tutti si ricordano che quel giorno Non vanno umiliate le donne Secondo me le donne in realtà E questo è un discorso più complesso Dovrebbero essere Anche la politica dovrebbe fare il proprio lavoro Noi abbiamo assistito in questi anni Ad un ruolo bruttissimo Che hanno ricoperto le donne in questo paese Un po' lo dico per colpa di Berlusconi Per colpa anche di un messaggio Che è andato alla televisione Insomma Il caso Rubi Il caso Rubi Ma anche la partecipazione della Minetti Io credo che ci sono tante ragazze Che studiano Che sono appassionate alla vita E anche la vita pubblica E che non meritano di essere etichettate Con questi atteggiamenti qua Io voglio portare con me Nella giunta Nell'attività politica alle donne Ma non perché sono donne Perché io sono contro questa settarizzazione Ma perché sono portatrice di valori E di un modo di lavorare E di vedere le cose Anche io con te Mattia condivido Condivido questa tua opinione Perdonami Abbiamo una telefonata Abbiamo una telefonata Va bene Pronto? Buonasera Buonasera Salve io sono Daniele da Roma Salve Daniele Ciao E volevo farvi i complimenti Per la nuova trasmissione Per la lì del Gadi Grazie Grazie mille Ciao Avremo una domanda Al candidato sindaco di Roma Mattia di Tommaso Sì ciao Allora vorrei sapere Cosa ne pensa delle case chiuse È il suo parere Grazie Posso farti una domanda? Sì Perché mi chiedi questa Mi fai questa domanda Qual è la tua preoccupazione? Cioè come lo vuoi? Io vorrei semplicemente sapere il suo parere Mi risponda semplicemente Sì sì No io perché voglio capire qual era la problematica che evidenziate Grazie Daniele Sei il primo a chiamare a stretta di mano Io gli ho fatto questa domanda perché mi viene spesso formulato Deve essere chiaro su questa cosa qui Qual è il problema di quelle case chiuse? La facilità che si ha di andare con le prostitute O c'è il problema C'è un problema Che uno vuole affrontare il dramma della prostituzione Allora io te lo dico Mattia perdonami Io su questo No no per capire l'istanza da dove viene Perché non è un mio problema Nel senso la frequentazione delle prostitute non è un mio problema Io so per la libertà personale assoluta Quindi per me quello che fa una persona Però almeno possiamo permettere il decreto che c'è Esatto Io abito in un quartiere di Roma Centocelle Lo conosco bene Ecco io nella Palmiro Togliatti Quando esco con gli amici È vero sì ci scherziamo sopra Ci facciamo delle risate Guardiamo ma Finisce lì È un dramma No ma io non mi fraintendere Però è anche vero che tanti Non era Stavo polemico mi scuso Volevo più che altro capire Perché Tu hai detto giustamente il degrado Esatto Quindi combattere il degrado C'è chi invece lo fa per una questione etica Una questione morale Assolutamente sì C'è chi la fa una questione Io lo dico Noi abbiamo una legge in Italia Che è la legge Merlin Che è datata a 1958 Che chiuse le case chiuse Oggi noi abbiamo questo problema qui C'è la prostituzione per strada Io personalmente lo dico Non sono d'accordo Alla riapertura delle case chiuse Per una ragione molto semplice Perché è la stessa cosa Che dicono le prostitute Che nelle case chiuse Il problema rimane Rimane la schiavitù Ma non rimane La visibilità all'esterno Quindi sembra che il problema Viene risolto Perché non si vede per le strade Allora il problema è un altro Va affrontato Però attenzione Non è che le case chiuse Risolvano il problema della prostituzione Risolvano il problema del degrado Ma non della schiavitù Non della possibilità Che viene Beh se fosse regolamentato Che idea ti fai Su una eventuale tassazione Della prostituzione Sono parzialmente contrario Ti spiego perché Perché Entrerebbero tantissimi soldi È vero Tutti i paesi L'hanno regolarizzata Hanno avuto un gettito fiscale Incredibile Vediamo da Amsterdam Esatto Ma il problema è Da dove provengono questi fondi Allora Se i soldi dello Stato Devono arrivare Da un'attività Di utilizzo del proprio corpo Sfruttato Perché attenzione Qui dobbiamo fare Una netta distinzione Tra la prostituzione Figlia dello sfruttamento E della schiavitù Piuttosto che La prostituzione libera E consapevole Allora Se tu Quei soldi Fatturati Puliti Arrivano allo Stato Perché una ragazza Minorenna Una ragazza dell'Est Ma penso che Che se fosse regolamentato Eh no Andrebbero Non è detto questo Andrebbero a forse poi Di controlli Mattia Sì Se è così Allora il mondo è perfetto Nel senso Se tutte le persone Che si prostituiscono Quindi scelgono liberamente Di prostituire il proprio corpo Lo fanno In un regime Legale È evidente che Nulla questio Il problema è Che Se invece Se nelle case chiuse Si nasconde la schiavitù E non c'è più controllo Noi dobbiamo Cioè non è che davanti ai problemi Bisogna mettere la coperta Certo c'è un decreto in città Che fa orrore Però io credo pure Che fino a quando ci sarà Questo orrore Fino a quando un bambino Chiederà al padre Che succede per strada C'è un'evidenza E quindi quale sarebbe La tua soluzione Da sindaco di Roma Mattia sindaco di Roma La sindaco di Roma È impedire La sosta delle prostitute Questo subito Nel senso È chiaro Lo dico L'ho detto anche prima È una legge nazionale Il comune non può fare nulla Sulla legge della prostituzione Noi lo sappiamo Può fare delle ordinanze Che hanno il tempo che trovano Ci ha provato Alle manno A multare le persone Che si fermano Il problema Il problema è che può fare Un sindaco Può magari destinare Delle aree Più Diciamo Meno Che hanno Meno impatto Per la città Però questo è un problema Che nessuno Ha la pacchetta magica Non andiamo Sulla strumentalizzazione Perché me lo dicono Anche in parecchi Lo dice alle donne Lo dice alle prostitute Non ci vogliono andare Nelle case chiuse Perché lì il problema Sembra che è finito Nessuno lo vede più Quando un problema Lo nascondi Io il problema Guarda Sono sincero Non ho la soluzione A un problema Che dura in Italia Da cento anni Quindi tu Se fossi sindaco di Roma Lasceresti le cose Come sono attualmente No cercherei Di puntare Sulla cultura Uno dice Sì con la cultura Non si mangia Invece Con la cultura Del rispetto E dell'emancipazione femminile Si parte dalle scuole Si parte dal rispetto Degli altri E piano piano Anche un'educazione sessuale A scuola Un'educazione sessuale Ma un'educazione Del rispetto Degli altri Non fare poi Non prendere come Fare spallucci davanti A questi problemi Secondo me Vedi noi siamo Una generazione Che è nata sotto i miti Io avevo il mio mito Che era Falcone Ho studiato legge Volevo diventare Un grande pubblico ministero Perdonami Mattia devo interrompere Perché abbiamo un altro Ospite in linea Questa sera Devo dire Bene bene Devo dire Tu sei pronto Mattia O sei bravo tu O siamo bravi noi Perché C'è tanta curiosità Vediamo un po' Sentiamo chi è in linea Sì pronto Pronto Buonasera Sì ciao sono Alessio Buonasera Alessio Ciao Alessio Stretta di mano Ciao Ciao grazie Volevo fare i complimenti Non solo a Gadi e Beraid Anche a Mattia Grazie Questa sera Grazie È stato veramente Interessante Ci fa piacere Alessio Perdonami Da dove ci stai seguendo Dalla tv Con il social network Dalla radio Ah dall'iPhone Perfetto Quindi l'applicazione Con l'applicazione Di Radio Yes Grandissimo Esatto Da dove chiami Di quale quartiere sei di Roma Se sei di Roma Guarda io abito al Pigneto Ho capito Al Pigneto Alessio Sì 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 Quindi siamo anche vicini di casa Sì sono a 100 celle Quindi Va bene Alessio Penso che Avrai una domanda Da porre al nostro candidato Sì 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 Innanzitutto Stavo seguendo la trasmissione Avete toccato un sacco di Temi molto molto interessanti Non ultimo Insomma Sentivo la domanda Sulle case chiuse Sì sì Volevo sapere però A proposito di mezzi pubblici Perché Il problema di Roma Si parla sempre Della metropolitana Non si può Insomma Il problema grosso di Roma Non si può andare Sotto la superficie A questo punto Perché non andare Sulla superficie Cioè magari Riportare quello che era Il vecchio sistema Di trasporto pubblico A Roma Su binari Quindi sui tram Che costa anche di meno Tra parentesi Sì Va bene Grazie Alessio Grazie Alessio E daremo modo Di farti rispondere Seguici E ti ringrazio anche Per aver partecipato Grazie Alessio Rispondo subito? Sì come no Allora Alessio Grazie innanzitutto Della domanda Io l'avevo detto in apertura La metropolitana per me È la madre di tutte le battaglie Perché è il simbolo del trasporto Però c'è il trasporto su gomma Io sono sempre stato d'accordo Dei tram Perché i tram Sono molto più semplici E molto più Molto più economici Che costruire una linea metropolitana Io sono d'accordo Io sono d'accordo a fare la linea C Addirittura io sono Per la linea D Però Secondo me L'aumento Delle linee tramviarie Secondo me Passa tutto da lì Però perdonami Mattia Io ecco Abitando proprio Il trenino Roma-Pantano No 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 Abitando proprio A Centocelle A Piazza dei Gerani C'è il capolinea Del tram 5 E del 19 Io quando prendo Mi capito di prendere il 5 Per arrivare Alla stazione Termini Oltre a fare Molte fermate Ci impiega anche Circa 40 minuti Il problema è Che il tram Segue un percorso Anzi in realtà Non c'è neanche più di tanto traffio Deve rispettare i semafori E le fermate Quello Sono anche lunghezze Molto Molto ampie Io credo che Vede Il problema Lo dico pure Alessio Il problema di trasporto Non si risolve con un pezzo Si risolve se c'è un tram Ma se c'è in parallelo L'autobus Se c'è in parallelo La metropolitana Cioè se vanno più cose Nella stessa direzione In modo tale Da alleggerire il carico Perché è chiaro Un viaggione Io mi ricordo I viaggi che abitavano Da quelle parti Anch'io Roma-Pantano Era il viaggio della speranza E va bene Mattia Hai risposto anche a questa domanda Dicci un po' Qual è il tuo brano preferito Ah Il mio brano preferito Vogliamo un po' Vogliamo un po' Mettere il tuo agio In realtà è il mio cantante preferito Mi dicono in campagna elettorale Di non lanciarlo troppo Perché insomma A me piace Quindi lo dico Eros Ramazzotti E la canzone È Un angelo disteso al sole E allora ce l'abbiamo pronta Ce la sentiamo